Aveva 39 anni, Chiara Fumai. Il suo corpo è stato ritrovato esanime nei locali di una galleria d'arte della città vecchia a Bari, nata a Roma, ma originaria del capoluogo e artista a tutto tondo, della quale amici e appassionati raccontano la fulminea ascesa nel panorama internazionale contemporaneo, dalla capitale a Kassel in Germania, passando per Parigi e New York, dove proprio pochi mesi fa aveva vinto un prestigioso premio, opere e performance, le sue spesso dedicate a scandagliare a fondo l'animo e la figura femminile, letture, installazioni, video, DJ set, talento e tormento, racconta chi la conosceva. Laureata in architettura a Milano, aveva frequentato il corso superiore di arti visive della Fondazione Ratti, a dare la notizia della scomparsa, il giornalista Pietro Marino, allertato dalla madre della donna, ignoto. Però tutto il resto, se siano stati i suoi demoni interiori ad avere il sopravvento, si debbano annodare in altro modo e i fili della vicenda saranno le autorità a stabilirlo. L'ultimo saluto alla Salma, invece, nella Chiesa del Sacro Cuore del Capoluogo.